signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale nell'ultimo periodo mi sono arrivate una serie di domande disparate da voi utenti ma in realtà alla fine vedendo le domande che mi avevate fatto c'era una domanda inespressa che era per tutti la stessa cioè come fare una corretta gestione dei tempi quando si sta facendo il proprio lavoro di preparazione come master preparare organizzare masterare una quest è sicuramente un'attività molto divertente e sicuramente porta una grande gratificazione intellettuale però non è qualcosa che si possa fare in maniera veloce almeno non nel gioco di ruolo tradizionale mi è sembrato quindi corretto a questo punto di tagliare la testa al toro e fare un unico video in cui vediamo di discutere un attimo assieme di quali siano appunto le attività che richiedono più tempo di lavorazione per il master e come fare a ottimizzare questi tempi probabilmente molti di voi che state guardando adesso che hanno anni e anni di esperienza di masteraggio alle spalle qualche trucco già lo sapranno però per i neofiti questo potrebbe essere davvero un argomento fondamentale e anche ai veterani è meglio sempre dare una ripassata voglio cominciare citando le parole del master etilico che so che segue il canale il concetto di impegno di tempo per il master dovrebbe essere sdoganato una delle leggi non scritte del gioco un ruolo tradizionale e in realtà non solo è che l'impegno proprio di tempo che il master deve dedicare al gioco è molto superiore a quello che devono dedicare tutti gli altri partecipanti alla sessione è qualcosa di normale intrinseco di come funziona il gioco diciamo che fondamentalmente è una cosa che è qui per restare e deve essere accettata per quello che è non se ne può fare a meno tutti noi abbiamo amici famiglia lavoro impegni hobby e altre attività che ci prendono tempo però restate nell'ottica che se volete fare il master in mezzo a tutte queste altre attività dovrete incastrarci anche i tempi tecnici di lavorazione di preparazione delle quest questo vuol dire più che altro che tra le competenze che il master deve sviluppare c'è anche quella di gestire in maniera furba i propri tempi di lavorazione perché il tempo speso a preparare le quest non diventi un peso che sottraga tempo a cose più importanti né diventi qualcosa che blocchi il processo perché so di non avere tempo quindi so che non posso masterare in questo video cercherò di spiegarvi almeno come faccio io a gestire i tempi e quali sono le attività che mi richiedono più tempo potrebbe non essere la stessa cosa per vale per voi però almeno soprattutto se siete agli inizi potete farvi un'idea di che cosa voglia dire quali siano i tempi e se questi sono meno compatibili con l'impegno che voi volete mettere nella questione cominciamo dicendo che potete dividere tutto l'impegno di tempo in due macro categorie il lavoro di pre produzione della quest e il lavoro di produzione vera e propria la differenza è che quando entrerete in regime di produzione avrete effettivamente le scadenze di tempo che nel lavoro di pre produzione tecnicamente non avrete durante la fase di preparazione iniziale infatti potrete prendere il tempo come lo preferite non avrete delle scadenze non necessariamente dovete seguire un ordine in cui fare le cose avete il tempo di preparare tutto quello che ritenete corretto nel tempo che voi ritenete corretto partite però dal presupposto che non avete tempo illimitato soprattutto una volta che la quest è stata annunciata se è ragionevole che i vostri giocatori una volta che sono stati avvisati che state organizzando una nuova quest hanno accettato di venire possano aspettare qualche settimana magari anche un paio di mesi a seconda dei giocatori non è ragionevole pensare che la gente possa restare in attesa per anni che voi finiate di completare il vostro presupposto capolavoro di effettivamente quanto tempo avete a disposizione dipende da quanto siete veloci voi e quali sono le preferenze del vostro gruppo ci sono gruppi che giocano ogni settimana giù gruppi che giocano una volta ogni sei mesi gruppi che giocano per pochissime ore alla volta gruppi che giocano per interi fine settimana la cosa migliore da fare è come sempre sentire i giocatori della quest e chiedere prima in tutto a loro come loro preferiscono gestire i tempi della quest in modo che voi abbiate un'idea di quello che avete per potervi organizzare vediamo però un attimo nel dettaglio cosa fare nelle varie fasi della quest come abbiamo detto la fase in cui avete più disponibilità di tempo è la fase di preproduzione questa è quella in cui voi preparate tutto il materiale che sapete per forza in un modo o nell'altro verrà poi utilizzato durante la quest o durante la campagna la maggior parte di quello che abbiamo visto quest'anno col world building e in realtà anche negli anni precedenti con le altre rubriche del canale avviene principalmente nella fase di preproduzione qui dovete prepararvi un mostrario qui dovete fare il world building cominciare a prepararvi elenchi di nomi per png città pianeti quello che sarà la vostra ambientazione qui dovete impostare la struttura e gli atti definire una linea narrativa principale poi se questa è una singola quest probabilmente il vostro lavoro è finito qui se state progettando una campagna lunga ma anche molto lunga probabilmente dovrete introdurre più png più linee narrative che andranno ad accavallarsi tutta cosa che abbiamo visto nei video degli anni scorsi apparentemente questa è la parte del l'impegno di tempo per il master più gravosa in realtà probabilmente andando a calcolare bene i tempi non è vero qua sembra che si stia facendo un sacco di lavoro semplicemente perché il lavoro che deve essere fatto viene fatto tutto insieme in realtà se andassimo a sommare tutti i tempi poi di produzione settimanale o mensile durante l'intera durata della campagna probabilmente l'impegno di tempo maggiore è quello questo però è qualcosa su cui dovete più che utilizzare più tempo dovete metterci più attenzione più passione perché qua verrà creato probabilmente tutto il materiale che poi vi dovrete portare avanti per anni durante tutto lo svolgimento della campagna vera e propria vi conviene piazzare anche nel periodo in cui vi state dedicando alla preproduzione una sessione zero con gli altri giocatori abbiamo parlato anche di cosa sia una sessione zero nel caso vi lascio qua il video comunque preparare una sessione zero con gli altri giocatori per assicurarvi che il materiale che state prevanendo sia effettivamente qualcosa che sia interessante anche per loro e quindi non correre il rischio di aver buttato un sacco di tempo in cosa che poi i giocatori non vogliono giocare una volta che tutto il materiale è pronto gli archi sono stati stabiliti la struttura narrativa è stata fissata potete iniziare effettivamente con le sessioni di gioco vere e proprie e quindi entrare nella fase di produzione bene diciamo che avete completato la vostra fase di preproduzione avete concordato i tempi come giocatori avete fatto la vostra sessione zero e avete tutto il materiale generico pronto adesso potete iniziare la fase di produzione e quindi far partire la quest prima di tutto alla fine di ogni sessione se è possibile proprio appena finita la sessione prendetevi il tempo per segnare tutto il materiale che già avete utilizzato e il materiale che verrà utilizzato nell'immediato futuro i giocatori magari hanno sconfitto i banditi nella foresta e adesso sono in viaggio per il dungeon dei troll bene prendete i profili dei banditi metteteli via ricordatevi della quest non si butta via niente e guardate cosa avete di già pronto per il dungeon dei troll magari per la prossima sessione dovrete creare una mappa rivedere i profili dei troll magari avete un profilo pronto per un troll generico ma dovete aggiungere il capo dei troll l'eroe troll il troll mago quello che sarà magari dovete preparare fisicamente degli handout delle pedine per il tavolo delle mappe da consegnare ai giocatori dipende da come siete abituati ovviamente come abbiamo detto non si butta via niente prima di cominciare a produrre nuovo materiale controllate che non abbiate già qualcosa di pronto che possa essere riciclato in questa specifica occasione ovviamente tutto questo dovrà essere fatto prima dell'inizio della prossima sessione e quindi il tempo che avrete a disposizione sarà solo quello tra una sessione e l'altra quindi cosa e quanto preparare dovete anche regolarlo in base a quanto tempo sapete di avere probabilmente qualche ora alla sera mentre guardate un film in televisione sarà sufficiente se avete fatto un buon lavoro di preproduzione ma in casi specifici in cui magari dovete preparare più materiale del solito dovete essere bravi a organizzarvi anche perché la preparazione del materiale è solo una parte del lavoro che dovete fare tra una sessione all'altra perché c'è anche tutta la sessione dell'adattamento per adattamento si intende il lavoro di revisione fondamentalmente una campagna non procede mai come era stata inizialmente prevista questo chiunque abbia un minimo di esperienza ve lo può dire tra una sessione e l'altra dovete anche controllare come la storia ha deviato se è necessario introdurre elementi per ricanalizzarla verso un determinato obiettivo o se rifare quell'obiettivo comunque dovete controllare tra il materiale che avete già pronto che cosa continua a essere valido e che cosa invece dovrà essere scartato e sostituito con qualcos'altro durante la sessione è uscito un nuovo pianeta e i giocatori hanno espresso il desiderio di esplorarlo magari non avevate previsto all'inizio della campagna che ci sarebbe stato un pianeta quel pianeta è stato semplicemente qualcosa che fondamentalmente è emerso spontaneamente dalla narrazione abbiamo fatto un video anche su quello bene a questo punto magari voi non vi aspettate che i giocatori arrivino su quel pianeta prima di tre o quattro sessioni ma è il caso che cominciate immediatamente a fare un lavoro di preparazione in più dovrete anche fare in modo che quel pianeta si incastri nella trama magari qualcosa che avevate previsto succedere da un'altra parte dovrete spostarla e farla succedere su quel pianeta magari dovrete cambiare qualcosa in seguito per avere dei riferimenti a quel pianeta dello specifico questo dipende dalla storia che state narrando ma ogni nuovo elemento tecnicamente può causare a cascata tutta una serie di altri cambiamenti che è meglio fare nell'intervallo tra una sessione e l'altra in modo di averli sempre pronti e non dover arrivare poi dieci sessioni più avanti a rendersi conto che tutto il materiale che si aveva già preparato è diventato inutile quanto tempo vi richiederà questa fase? anche in questo caso dipende sia dalla vostra velocità come master sia dal gioco che state utilizzando alcuni regolamenti sono molto più veloci alcuni sono più lenti alcuni master sono più efficienti altri meno io personalmente so di avere quasi sempre liberi o il sabato o la domenica mattina e quindi mi dedico in quei momenti normalmente due o tre ore a rivedere il materiale per le quest della settimana trovatevi anche voi un momento in cui sapete di essere tranquilli e dedicatelo a questa attività oltre a tutto questo ricordatevi che dovete sempre cercare di tenervi qualche riserva di tempo per gestire gli imprevisti ora capisco che può sembrare strano gli imprevisti in quanto imprevisti sono cose che non potevate prevedere come fate a risparmiare del tempo in previsione di cose che non potevate vedere ecco questo per esperienza posso dirvi e potrà dirvi qualunque altro master che voi non potete prevedere quali saranno i guai della quest ma avete la certezza matematica che sicuramente accadrà qualcosa che scombinerà i vostri piani le sessioni di gioco verranno spostate, gli impegni vi si accumuleranno la settimana che pensavate di non avere niente da fare e potervi dedicare alla quest diventerà un incubo in cui tutto quello che non è successo negli ultimi tre mesi succederà in quel giorno specifico qualcosa che pensavate di riuscire a progettare in mezz'ora diventerà un buco nero di tempo che risucchierà 20 ore della vostra vita per ovviare a questi contrattempi entrate nell'ottica che ogni volta avete qualche avanzo di tempo perché siete riusciti a preparare più materiale di quello che vi è servito in sessione o avete del tempo libero che non vi aspettavate durante una settimana utilizzatelo per preparare degli incontri o degli eventi che possono succedere in maniera estemporanea in qualunque punto della vostra quest i giocatori arrivano al villaggio dove sentono parlare del dungeon locale ora i giocatori invece di andare al dungeon decidono che sarebbe veramente una bella idea aprirsi una locanda in città e diventare dei baristi ora voi non avete preparato assolutamente nulla a riguardo perché una cosa del genere non ve l'aspettavate invece di cercare di improvvisare tutto sul momento che vi porterà più danno che altro in avanti quello che vi serve adesso è un modo per chiudere la sessione e poi avere tempo per prepararvi altro materiale ecco voi vi eravate già preparati uno scontro con gli schiavisti draw che emergono dal terreno per rapire gente questo è qualcosa che potrebbe succedere in qualunque momento della campagna senza alcuna attinenza con quello che sta succedendo sono cose che capitano mentre i giocatori inizieranno a interessarsi sui permessi che servono per aprire una locanda avverrà l'attacco dei draw voi quella sessione l'avete portata a casa e avrete tutto il tempo prima della prossima sessione in fase di produzione per creare il nuovo materiale e anche per crearvi un nuovo incontro estemporaneo un drago deciderà di attaccare proprio dove stanno passando i giocatori comunque un altro incontro che potrete usare la prossima volta che succederà qualcosa di assolutamente imprevedibile ovviamente dopo aver fatto tutto questo oltre aver preparato il materiale per questa decisione estemporanea ai giocatori sappiate che dovrete anche prendervi il tempo per andare a rivedere qual è la linea narrativa principale e andare a ricollegare quello che i giocatori hanno deciso di fare con quella che deve essere poi il tema e l'andamento della campagna i giocatori hanno deciso di aprirsi la taverna del villaggio il signore del male attaccherà quel villaggio i giocatori hanno deciso di comprarsi una base all'interno della zona malfamata della città la megacorporazione avrà degli interessi proprio in quella zona ovviamente tutto deve essere riportato alla narrativa prevista io personalmente per essere sicuro di avere sempre tempo per l'adattamento scrivo tutto il materiale per una singola quest in un'unica sessione anche se sicuramente una quest non durerà una sessione ma probabilmente andrà avanti per diverse settimane così sono sicuro che nelle settimane successive avrò sicuramente il tempo per fare degli adattamenti nel caso ce ne sia bisogno abbiamo detto che il tempo è prezioso quindi non ve ne faccio sprecare altro per questo video è tutto adesso sta a voi scrivetemi nei commenti quale metodo utilizzate voi per gestire i tempi se è un metodo simile al mio se è qualcosa del tutto diverso qua come sempre voglio rubare le vostre idee per migliorare anche la mia gestione inoltre sappiate che lo fate non solo per me ma anche per tutti i neofiti in ascolto che probabilmente questo è uno degli argomenti fondamentali per loro per riuscire a superare il primo impatto disastroso con il mastering come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le notifiche io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video ciao